Proprio perché Virgil per me è sempre stato un eroe, uno fortissimo, e lui usava l'elvetica soprattutto, detto io voglio uscire da questo momento in cui tutti usano i fontabastone e lo faccio a mano, lo faccio sgangherato. Era proprio in contrasto col trend che c'era in quegli anni. Ciao a tutti, io sono Leonardo, questa è una nuova puntata di Outpam Podcast e oggi diamo il benvenuto a Pietro Terzini. Ciao a tutti! Prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Permettimi di fare una piccola introduzione su di te, classe 1990, nato a Lodi, hai frequentato gli studi di architettura al Politecnico di Milano, poi hai deciso di fare un master in marketing alla Bocconi e oggi siamo qui. Non voglio utilizzare una definizione mia, ma tu ti sei definito creativo contemporaneo. Ma in realtà non l'ho decisa io questa definizione, è qualcuno che l'ha scritta. Però sì, tutto vero. Condividi. Condivido. Diciamo che io, come dire, lavoro, opero nel campo di quella che si potrebbe definire creatività, anche se è un termine un po' vago. Cerco di realizzare delle cose, dei manufatti piuttosto che dei supporti visivi, che poi vivono sia nel mondo, come dire, fisico, reale, che digitale. E se dobbiamo definire creatività, sì, va bene. Però non ti piace essere definito artista? Ma non lo so, è bello anche essere definito artista, però per me l'arte e la definizione di arte è molto arbitraria, soggettiva e anche vaga. Perché che cosa significa? Chi è un artista oggi? Un bravissimo artigiano? È un artista, è un bravissimo chef, è un artista. Ma anche uno bravissimo a fare il cercaverta su Excel? È l'artista di Excel. Quindi non lo so, sono uno che fa cose. Ok. E riguardo al termine artista contemporaneo, creativo contemporaneo, la prima figura che mi è venuta in mente, che so che probabilmente è un riferimento culturale anche per te, è Virgil Ablo. Certo, grande. Avete anche alcune cose in comune, perché anche lui è storia di architettura, questa cosa dello scrivere a mano comunque è un punto che avete in comune. Quali erano i tuoi riferimenti? Quali sono stati i tuoi riferimenti crescendo? E come si sono evoluti nel tempo? Chi sono oggi i tuoi riferimenti a livello artistico e culturale? Allora, i miei riferimenti inizialmente sono dei riferimenti musicali. Io mi ricordo quando ero al liceo, avevo 14-15 anni, ero super appassionato di musica rap americana. In Italia c'era pochissimo, era appena uscito Mondo Marcio, poi subito dopo Fabri Fibre e poi Club Dogo avevano firmato con una major, però erano veramente in poche per fare questo tipo di musica in Italia. Io giocovo a basket al tempo, i miei compagni di squadra erano un po' più grandi, mi avevano prestato dei CD, c'erano ancora i CD e mi ricordo che avevo la soundtrack di 8 Mile, che aveva rientrato anche le prime canzoni di 50 Cent, vabbè ovviamente quelle di Eminem eccetera. Poi da lì avevo comprato delle cose di Exhibit e prima ancora era arrivato l'hip hop tramite il crossover, quindi Linkin Park, i P.O.D. e in quegli anni a me piacevano molto gli artisti rap, ma soprattutto i produttori, perché mi piacevano i suoni. E quindi ero super appassionato di Timbaland, di Kanye, quando ancora facevo il produttore e poi dopo chiaramente è diventato artista, Farrell che ha iniziato a fare un po' di cose di moda ai tempi con Nigo, aveva fatto BBC Ice Cream eccetera, e quindi vedendo i video avevo scoperto che cosa fosse anche la Batinape e tutte queste cose. Ed era anche un mondo, come posso dire, pre-social in cui dovevi un po' cercare. Le informazioni non giravano nel cielo. Kanye West aveva un sito che si chiamava Kanye University, che era tra l'altro gestito da Virgil, e io su questo sito andavo tutti i giorni e vedevo che cosa postava, che cosa ripostava anche, ripostava i primi post di Esnobiety, e lì mi sono fatto una mia cultura personale, che però nella mia piccola città Lodi era un po' una mosca bianca. A scuola c'era solo un altro ragazzo, che saluto Lorenzo Motta, che aveva un po' i miei gusti, non era in classe con me. All'inizio non sapevo neanche come avvicinarmi a lui, però un giorno ho visto che aveva ai piedi leato Matsumoto, che sono queste scarpe che aveva Kanye nel video di Stronger, e anch'io le avevo. Allora gli ho detto, senti, diventiamo amici. E poi siamo diventati amici qualche anno dopo, di più, quando io non sapevo con chi andare a vedere questa mostra di Takashi Murakami a Versailles. Ero già all'università lì, eravamo nella biblioteca del comune di Lodi, quelli che noi facevamo i pendolari, no? Io lo vedo e gli dico, vabbè, provo a chiedergli se vuole venire con me, allora siamo andati. E niente, quindi ci sono tutti questi riferimenti che sono dei riferimenti musicali, quel tipo di cultura lì. Poi molto anche, non so, giocatori di basket, brand legati al basket, come la Jordan, eccetera. Poi successivamente, studiando architettura, mi sono appassionato ad alcuni architetti e anche ad alcuni artisti, perché è un po' come si dice generalmente, l'architettura è madre un po' di tutte le arti, perché ha dentro tantissimi riferimenti alle altre arti. E grazie appunto agli esami, l'istoria dell'arte, l'istoria dell'architettura, ho scoperto il lavoro di alcuni artisti importantissimi, soprattutto però a stratti e minimalisti, come possono essere Rotko, piuttosto che, non lo so, Cilida. Come sei passato dall'hip hop, diciamo, all'architettura? Ma è stato un passaggio abbastanza naturale, perché comunque, diciamo che il rap dei primi anni era molto, come dire, pantaloni larghi, bandane, t-shirt. Poi grazie a Kanye, a Farrell e proprio al sito, venivano ripostate delle cose di design e di architettura. Anche Farrell, ai tempi, mi ricordo che aveva fatto una sua sedia, in cui le, come posso dire, le gambe della sedia erano delle gambe vere, come dire, il faccimento di gambe umane. E quindi iniziava ad esserci questa commistione tra arte e musica, particolarmente grazie a quei personaggi. Poi mi ricordo la copertina di Graduation, che era stata fatta di Takashi Murakami, e quindi per una cosa o per l'altra, come dire, sono andato ad architettura. In realtà io avrei voluto fare moda, perché mi piaceva questo. Però mia mamma mi ha detto una cosa, anche saggia, mi ha detto un architetto può essere designer, ma un designer non può essere architetto. Poi mio papà non voleva che andassi a fare architettura, perché lui era nel... è ancora nel mondo dell'edilizia, fa l'ingegnere e sa tutte le complicazioni che, come dire, fare l'architetto comporta. Però io mi sono iscritto e sono entrato al Politecnico per il rotto della cuffia, proprio tra gli ultimi, ma gli ultimissimi, facendo il test. Poi dopo però mi sono appassionato e sono andato sempre bene. E lì poi una cosa tira l'altra. Tutta la mia cultura, come dire, visiva in quegli anni, quindi con questi artisti, piuttosto che con alcuni architetti, a me piace molto la scuola portoghese, quindi non so, Alvaro Siza, Souto de Moura, piuttosto che dopo un po' più spagnoli lì, RCR, eccetera. Me la sono fatta tutta sui libri. Cioè, io ho avuto lo smartphone per la prima volta, penso nel 2015, nel 2016. Prima era solo, solo libri, li compravo, li prendevo le riviste, molte monografie, andavo in biblioteca e mi sono formato così. Tanto che, ancora prima di farmi profili di Instagram, piuttosto che di Facebook, avevo fatto, e c'è ancora, ho scoperto recentemente, anche se non pago più il dominio, questo blog WordPress, che avevo chiamato Top Home XXX, in cui pubblicavo tutte queste superville di Olgiati, eccetera, che adesso ho visto che piace anche a Travis Scott, che è andato a trovarlo, e un po' le mettevo in internet. Il mio discorso è sempre stato quello di cercare di capire se c'era anche qualche altra persona a cui piaceva quello che piaceva a me. Trovare qualcuno con cui condividere. Eh, esatto, con cui condividere, cercare, dire, ma secondo te questa cosa è una cosa figa, piuttosto che no, cioè parlare, e non è mai stato facile. Mi ricordo che ho iniziato un pochino su Facebook, quando c'erano i gruppi, iniziavo a ripostare delle cose di questo blog in un gruppo che si chiama Brutalism Appreciation Society, tutto su architettura brutalista, era un gruppo molto vivo, gli ho detto, no, wow, figo. Poi parallelamente avevo iniziato a scoprire il lavoro di alcuni artisti che sono stati proprio, non è che sono dei riferimenti per me, perché poi per quello che faccio io non ho veramente dei riferimenti, però è come dire delle figure che mi piacciono, che stimo e che dico, cavolo. Che sono sempre interessanti da guardare. Non vedo l'ora di vedere la prossima mostra, che sono, non so, Damien Hurst, Kose e Takashi Murakami. Poi quegli artisti che magari nel panorama dell'arte, da alcuni dei critici un po' più straight, non sono considerati neanche così forti, li considerano overrated. Per me sono fortissimi. Mentre non mi sono mai piaciuti quegli artisti molto, come posso dire, concettuali in cui c'è bisogno di una grande spiegazione per capire l'opera. O comunque quelli che fanno delle cose molto elitarie da un punto di vista proprio cognitivo e culturale. Mi è sempre piaciuta un'arte accessibile a tutti, un po' più pop. Quindi anche l'architettura l'hai approcciata inizialmente dal punto di vista visivo più che funzionale? Sì, a me piace proprio uno stile minimalista. In architettura si direbbe che segue le regole della tettonica. C'è tutto questo saggio, libro di questo storico che si chiama Kenneth Frenton. Sostanzialmente che cos'è la tettonica? La tettonica è un modo di costruire le cose così come sono. Ovvero, se ti devo far vedere il giunto di come sono collegati, una trave e un pilastro, te lo faccio vedere. Cioè non nascondo niente. E il brutalismo è molto legato a questo, ma anche Miss Van Der Rohe con tutta la riscrittura di una sorta di alfabeto costruttivo faceva questo. Mentre ad esempio non è tettonico, Frank Gehry, in cui c'è molta forma e la struttura è nascosta. Quindi la purezza della struttura a me è sempre piaciuta. Mi è sempre piaciuto anche un tipo di architettura molto dura, quasi fredda, però alla fine senza tempo, in cui il materiale è quello. Cioè tu vedi il materiale di cui hai fatto, mentre io odio invece tutto questo mondo adesso che va molto di ottoni, piuttosto che di velluti, di modanature finte, eccetera. Non mi piace. Dal modo in cui parli noto che comunque c'è ancora una grande passione per tutto questo. Perché hai deciso di abbandonarlo? E soprattutto come sei arrivato a fare poi quello che stai facendo oggi? Ma allora, diciamo che bisogna fare un po' i conti con la realtà. Io dopo cinque anni di studi, comunque impegnandomi tanto, ero forte. Dopo aver fatto anche tanti stage, eccetera, avevo lavorato molto, ma non avevo guadagnato niente. E facevo il pendolare da Lodi a Milano. Io andavo a letto solitamente alle tre o quattro di notte, perché la sera disegnavo e facevo i modellini. La mattina io svegliavo alle sette e prendevo il treno. Vivevo ancora a casa con i miei. E oggettivamente era diventato un po' sostenibile questo tipo di vita. Mia sorella, che invece è una donna di business, di finanza. Pragmatica. Sì, che è più piccola di me, però è molto avanti, vive a Londra. Mi ha detto, senti forse meglio che tu provi ad aggiungere al tuo curriculum un profilo anche legato alla comunicazione, al marketing, per essere, come dire, appetibile, papabile, anche per dei posti di lavoro legati alle aziende, dove forse puoi in qualche modo diventare indipendente da un punto di vista economico. E quindi, un po' a malincuore, ma anche no, perché comunque la mia esperienza l'avevo fatta e l'avevo dato tutto, ho provato a fare questo master dove sono entrato, un master in marketing e comunicazione, che è stato carino, però non è che mi ha, come dire, aperto a dei mondi inimmaginabili. Però è stata una cosa interessante per poter differenziare il mio curriculum e quindi entrare poi in un mondo più di aziende, al di fuori dal design. E sono capitato poi in un'azienda che si occupava un po' di moda, un po' di comunicazione, un po' di talent manager. Mi sono stato lì tanti anni e ho avuto modo anche, da un punto di vista creativo, di esprimermi. Chiaramente non costruendo nessun tipo di edificio, però facendo altro. Hai imbiancato qualcosa nell'ufficio, hai cambiato qualcosa, no? Non me lo lasciavano fare, non me lo lasciavano fare. Però mi sono fatto, come dire, un'esperienza in un mondo diverso, in un mondo in cui stava proprio esplodendo il fenomeno dei social, no? Perché quando io ho iniziato a lavorare per TBS, questo nome dell'azienda, è che era il 2015-2016 ed erano ancora quasi tutti su Facebook. Instagram era considerata una app per fotografi, dove avevi un po' di timore se non eri in grado di utilizzare il filtro giusto, di essere fondizzato, pubblicare qualcosa. Invece in quegli anni, anche per facilità d'uso, la gente è migrata sulla piattaforma. E io in quegli anni ho preso lo smartphone, perché Facebook io lo usavo dal desktop, totalmente. E lì ho intuito la forza proprio di quella piattaforma. Poi io che sono una persona molto, come posso dire, timida nel farmi vedere, non ho mai postato mie foto, però che cosa facevo? Avevo creato ancora questa pagina che si chiama Friday Fries, in cui ripostavo contenuti, che erano soprattutto contenuti un po' mood board, un po' tumblr. Come dicevi prima, immagini che ti piacevano, che ti ispiravano. Che mi ispiravano, quell'estetica un po' tumblr, che comunque non si trovava sulle riviste. E che per me era interessante. E ho visto che veramente le scritte mi piacevano molto, erano foto di neon, piuttosto che foto di pagine di libri, piuttosto che insegne. Cioè aveva una loro forza. E allora, come dire, dopo un bel po' ho detto, vabbè, sconfiggo la vergogna e provo a fare le mie. E le provo a postare. Ma proprio per piacere, per gioco. E anche lì per vedere se c'era qualcuno a cui poteva piacere quello che scrivevo, no? Quel tipo di, anche ton of voice, eccetera. Nell'ufficio in cui lavoravo giravano veramente tanti packaging dei brand, perché ricevevamo merce da veramente tanti brand, e tutti questi packaging venivano buttati via. Però oggettivamente erano bellissimi. Erano super colorati. Io avevo questa nuova libreria Ikea bianca in casa, vuota, a parte qualche libro. E ho detto, ma io me li inizio a portare a casa. Perché no? La scatola Whitton gialla, un po' aranciata. La scatola carta da zucchero di Prada, piuttosto che quella verde di bottega, le porto a casa, le metto lì, mi danno una botta di colore. Figo. Riempono un po'. Figo. Poi un giorno, una mia collega mi ha detto, ma perché porti a casa tutta l'immondizia? C'era una scatola di Dior, io l'ho alzata, l'ho messa al muro e ho detto, non vedi, è un quadro di eureka, epifania. Ho detto, bene. L'hai convinta? Non credo. Però ho detto, vedi, gli iscritti che sto facendo potrebbero avere questo supporto, che poi si è rivelato essere un supporto, secondo me, funzionale, al periodo in cui ho iniziato a fare questo tipo di lavori, perché, di fatto, era il periodo in cui i brand avevano iniziato a non spingere solamente il prodotto che vendevano, avevano iniziato ad abbracciare degli ideali, delle cause, in maniera funzionale, poi per vendere una t-shirt e più, ovviamente. Però erano entrati nella cultura anche popolare, quindi non più elitaria, raccontando delle storie, presentando dei mondi. E quindi per me erano diventati un medium, si dice in arte, estremamente pop, quindi che abbatteva qualsiasi tipo di barriera all'apprendimento dell'opera. Quello che dici prima, immediato, facile da comprendere. Immediato, pop, totalmente. E quindi ho detto, come supporto funzionano? E allora ho iniziato a sviluppare tutta una serie di scritte che potevano in qualche modo lavorare sul supporto su cui venivano messe. Allo stesso tempo, proprio perché Virgil per me è sempre stato un eroe, uno fortissimo, e lui usava l'elvetica soprattutto, detto io voglio uscire da questo momento in cui tutti usano i fontabastone e lo faccio a mano, lo faccio sgangherato. Era proprio in contrasto col trend che c'era in quegli anni, perché proprio i brand stavano cambiando tutti i loghi, che avevano magari le grazie, piuttosto che, trasformando tutti i loghi in fontabastone. E ho detto, per contrasto a questa cosa, per differenziarmi, uso la mia calligrafia, che è sempre stata una calligrafia terribile. Mi ricordo che alle superiori la mia prof di italiano, quando c'era magari da ricopiare in bella il tema, mi diceva, per favore Pietro, fallo in stampatello, perché ancora non capisco niente. Perché sennò qua non usciamo più. Cioè non capisco niente di quello che scrivi. Cioè possiamo dire che è stata una scelta pensata, quella di utilizzare la tua calligrafia, non è stata una cosa, diciamo, solamente istintiva, perché ho letto che più volte ti sei detto, hai detto di essere un fan del potevo farlo anch'io, no? Sì, sì, no, il tema è, quello è un tema stilistico, quello di farlo a mano. Però, come dire, quando io già da bambino, magari i miei genitori mi portavano in qualche museo così e vedevo una cosa molto semplice, dicevo, cavolo, ma questa la potevo fare anch'io. Però è quel tipo di sentimento che se riesco a suscitare in chi vede un mio lavoro, mi piace, perché è semplice ed accessibile a tutti. Poi ci sono ovviamente delle cose pensate, è pensato il contenuto della scritta, è pensato come la vado a proporzionare un pochino dai miei studi di architettura, mi porto dietro il tema della proporzione e della composizione, che nella sua semplicità, però, le lettere se le metti più vicine, più lontane, le strecci un po' di più, le strecci di meno, visivamente ti danno un equilibrio diverso. Quindi quello me lo porto dietro. Però oggettivamente l'artefatto che vado a fare è un artefatto che potrebbe fare chiunque. Diciamo che al momento i tuoi segni distintivi sono appunto le scritte sui sacchetti, sulle scatole, che sono state anche poi oggetto di diverse mostre, e IDM su Instagram. Come sei arrivato a questi due mezzi, quello dei sacchetti appunto ce l'hai raccontato, quello invece dei IDM, come è nato? Allora, quello dei IDM è nato perché io volevo postare tutti i giorni qualcosa, però oggettivamente fare un quadro al giorno è impossibile, anche perché io lavoravo tutto il giorno in un ufficio, era impensabile farlo. E poi i sacchetti bisognava recuperarli. Bisognava recuperarli, è un problema che ho tuttora. Più grande il quadro, più sacchetti uguali devo trovare. Che ora una volta venivano buttati, ora invece vengono anche rivenduti, quindi forse è ancora più difficile recuperarli adesso. Difficilissimo, cioè ha iniziato a avere dei costi. Poi io li voglio sempre usati, cioè presi da qualcuno che veramente li ha comprati, quindi hanno una storia, c'è dietro il tema dei soldi, del tempo, è un regalo, è un regalo di un amante, è un regalo d'amore, non si capisce mai. Vabbè, per IDM no, volevo appunto tutti i giorni pubblicare qualcosa, era impossibile pubblicare ogni giorno un quadro, loro ho detto voglio utilizzare un sistema veramente a zero dispendio di energie, che può fare chiunque, cioè eliminando in quel caso ogni mia velleità artistica, ogni mio tratto, utilizzando il medium della messaggistica di Instagram, che al tempo non si usava così tanto, si usava più WhatsApp, adesso si usa ancora di più, fondo bianco assolutamente minimalista e pubblicare quella cosa lì, che anche in quel caso poteva fare chiunque, ma che nessuno aveva fatto a livello di dire io faccio solo questo, dove questa cosa può essere riconosciuta come una sorta di performance artistica, cioè impensabile. Io quando ho iniziato a farlo non avevo pensato a questo, ho detto voglio fare un contenuto al giorno e devo farlo, come dire, impiegando un quantitativo di risorse minime, cioè che possano, come dire, combaciare con il tempo che ho nella mia giornata. E sono nati così. Adesso questi DM, paradossalmente, nati digitalmente, totalmente, sono diventati serigrafie su tela, libri, quindi c'è stato il passaggio inverso. Una cosa che nasce digitale diventa cartacea o fisica e non il contrario. Questa cosa di dover pubblicare, volere dover pubblicare un post ogni giorno, è mai diventato un problema? Cioè senti mai la pressione, lavorando tu molto appunto sui social, senti la pressione di dover mantenere costante l'attenzione delle persone o dover cambiare, dover proporre qualcosa di nuovo per tenere vivo il pubblico? Allora, sì e no, nel senso, io ho piacere, se riesco tutti i giorni a postare qualcosa, poi, nelle varie cavolate che posto, magari su dieci, trovi una frase buona e altre che sono delle banalità assurde. Se non trovo l'idea, riposto qualcosa di vecchio, però per me è diventata un'abitudine. All'inizio era un po' più difficile, perché era per me difficile trovare la cifra stilistica con cui scriverli, perché sono tutti caratterizzati dal tema della sintesi e mi sono accorto, specialmente ai primi tempi, ai primi anni, che trovare la sintesi per alcuni concetti è molto complesso. I temi di questi DM che io cerco di esplorare sono dei temi universali, di sempre, che riguardano l'essere umano, ma che sono uguali dall'illia dell'Odissea, dai libri più antichi, che sono l'amore, il sentimento di rivalsa, l'invidia, e cercare di declinare questi temi nel mondo di oggi. Poi, come farlo in maniera sempre fresca, sempre nuova, sintetica, cattivante, è lì all'inizio era difficile. Adesso, quasi in automatico, alcune cose mi vengono, poi ci sono dei temi, delle cose molto difficili da fare oggettivamente. Però, io vado avanti su questo tipo di linea, poi oggettivamente io dico, ma sì, potrei esplorare delle nuove, dei nuovi format, sostanzialmente. A me piace molto, ad esempio, di Damien Ernst, che per me è forse l'artista più forte di tutti, per le mie referenze, il fatto è che lui abbia preso dei temi e li abbia poi portati all'estremo, no? Passiamo agli animali morti, informaldeide, piuttosto che agli spot painting, quelli con tutti i pallini. E quindi sono delle cose anche molto diverse. E quindi io sono sempre alla ricerca di una cosa, magari nuova, una nuova area di esplorazione da poter sviluppare, però non ho ancora trovato una cosa che dico, cavolo, quella è l'idea giusta. Mentre quando avevo iniziato a fare le scritte sui sacchetti, oggettivamente, cioè non è che non ho inventato questa cosa, è come se l'ho scoperta. L'hai capito subito, però, che l'ho scoperta. Sì, l'ho scoperta, cavolo, questa cosa qua, nella sua semplicità, può avere una sua forza. Me la sono immaginata. Tu considera che tutto questo è successo quando io non avevo nessun tipo di contatto con alcuna galleria. Non avevo idea di come si potessero vendere queste cose. È un film che mi sono fatto. Ho detto, ma secondo me questa cosa qua può funzionare. Poi la raccontavo ai miei conquilini, ai miei amici, tutti dicono, ah sì, sì, sì. Poi in cuor loro c'erano queste sceme. Nessuno ti ha mai chiesto, oh me ne fai uno. Ma che cavolo vuole fare? Ma dopo, dopo. Troppo tardi ormai. Dopo, però oggettivamente lì avevo avuto quella piccola epifania che ti faceva dire, questa può essere un'idea. Questa sensazione, pur facendo un po' di esplorazioni, non l'ho più avuta con le mie ultime cose, quindi continuo così, poi spero di trovarne una nuova, però si capisce, dentro di te la capisci. Poi magari dopo è un film che ti fai che non viene mai pubblicato, non esce mai in una sala, però parte tutto da una tua sensazione, secondo me. Riguardo ai tuoi lavori, viene spesso citato i ready-made di Duchamp oppure la pop art di Andy Warhol. Ci sono dei riferimenti espliciti che hai cercato? È stato un puro caso, magari inconscio? No, in quel caso è stato tutto inconscio. Io poi a ritroso ho cercato di trovare nella storia dell'arte qualcuno che aveva fatto una sorta di processo simile al mio, perché all'inizio quando facevo queste cose dicevano sì, vabbè, lui fa queste scritte, ok, amen, sti cazzi. Bravo lui. Bravo lui. Poi dopo, un pochino cercando, informandomi, ho capito che questo tipo di lavori potevano essere inseriti in un certo senso nella corrente dell'arte povera, che è una corrente italiana, che tra i massimi esponenti, Pistoletto, piuttosto che Boetti, poteva essere anche un po' legata alla text-based art di Ed Rusha, o Rocher, non ho ancora capito come si dice, e poteva sicuramente nella sua, come dire, quasi assurdità, essere legata a Duchamp, però la forza di Duchamp è molto superiore, perché comunque quello che io faccio arriva dopo che c'è stata quella frattura nella storia dell'arte. quindi a ritroso ho ritrovato come dire delle reference, dei fondamenti che potevano essere legati a quello che facevo, però quando effettivamente l'ho fatta, l'ho pensata, era una cosa legata alla vita che stavo vivendo, l'ufficio, queste cose della moda, la cultura Tumblr su Instagram, il fatto che Instagram poteva diventare la mia piccola galleria per me che partivo senza soldi e senza conoscenze. E invece c'è mai stato l'obiettivo, l'interesse a voler criticare il consumismo? Ognuno vede ovviamente le tue opere, interpreta qualcosa di proprio e spesso capita di sentire che magari viene intesa una critica al consumismo o a questi grandi poteri forti tra virgolette della moda, del mondo, c'è questa intenzione o anche in questo caso è una cosa che viene interpretata ma non era nelle tue intenzioni? Allora, più che critica io direi che queste cose sono una fotografia del mondo in cui viviamo perché noi oggettivamente viviamo in un mondo che è interconnesso, globalizzato e consumista. Il consumismo è la base di tutto, tutto. Se pensi anche i sistemi economici su cui si reggono gli stati sono basati sulla crescita. La crescita vuol dire produrre di più, essere più credibili quindi agli occhi dei mercati finanziari, attrarre più investimenti e produrre di più implica anche consumare di più. Cioè la regola del mondo oggi è questa quindi io non è che sto criticando questa cosa ne sto prendendo atto. Poi sappiamo tutti che non possiamo andare avanti all'infinito su questa rotta. Per vari motivi. Io non è che posso criticare questa cosa, non la voglio criticare. Persone molto più qualificate, più brave di me, mi auguro che trovino dei sistemi tali per cui tutto il sistema economico del mondo possa basarsi su un sistema diverso dal consumismo. Per oggi non mi pare che stiamo andando in questa direzione. Quindi per me non sono una critica, sono una fotografia. Cioè negli anni 2000 quando Terzini prese quei sacchetti e si scriveva sulle cose è perché quei sacchetti che erano nella cultura popolare erano delle religioni materialiste che permeavano il mondo. È questo. Invece poi il passaggio coi brand nel momento in cui hai cominciato a lavorare coi brand come l'hai vissuto eri contento ti è sembrato un po' di magari svendere quello che facevi appunto ai poteri forti del capitalismo diciamo? No perché io non ho criticato non volevo criticare per me è stata un'occasione per poter fare vedere ad un pubblico maggiore quello che facevo perché nel mio caso sostanzialmente è un po' particolare i brand avevano già fatto collaborazioni con molti artisti il tema è che questi artisti erano strafamosi e quindi era un win-win no? Vinceva l'artista però vinceva anche il brand andava da un artista che comunque era una garanzia portava visibilità Murakami Coase lo stesso Hearst cioè hanno fatto grandi collaborazioni con i più grandi brand nel mio caso che sono stato forse un po' uno tra i primi cioè io ero un ragazzino neanche riconosciuto come artista che sostanzialmente aveva un tone of voice di queste scritte divertenti e alcuni brand hanno pensato io posso comunicare tramite lui io come interposta persona in una maniera un po' più dissacrante sui social per prendere un pubblico più giovane più vasto perché alla fine sono queste campagne di comunicazione di marketing però io non la vedo come una cosa negativa la vedo come una possibilità per me di far vedere quello che faccio perché non cambia ad un pubblico più ampio volendo io fare pop art e per il brand è una esplorazione un esperimento per vedere se tramite mezzi di comunicazione un po' più giovane un po' più sperimentali può riuscire comunque a veicolare i suoi messaggi quindi l'ho visto proprio in termini di collaborazione certe volte ero proprio lusingato poi ho avuto la fortuna di lavorare anche con dei gruppi del fashion italiani che rispetto e che sono veramente al top ma anche al top ti devo dire nel rapporto con me fornitore mi sono sentito veramente rispettato e valorizzato quindi posso solo che ringraziarli c'è una in particolare che magari riguardi dici qua sono stato proprio bravo no quello no cioè nel senso io quando faccio una collaborazione o con quadro una cosa creativa il mio unico momento di piacere è quando mi viene l'idea poi dopo è tutta esecuzione il problema è che prima che venga l'idea io sono tormentato non dormo sono ossessionato poi magari passano settimane nel momento in cui dico ok l'ho trovata ok posso andarmi a fare la doccia tranquillo rilassato dopo è finito dieci minuti e poi si esegue e poi quando la vede non lo so il mio follower di instagram o qualcuno in strada a me sembra neanche non sembra neanche che l'ho fatta io dico guarda ok figo bello questo figo però il mio piacere è quando dentro di me so che ho trovato l'idea e la dannazione eterna ce l'ho finché non la trovo nel processo creativo si è quello ti ricordi magari una in particolare in cui il processo creativo è stato particolarmente tormentato allora mi ricordo una ma no in tutte tormentato mi ricordo una in cui però ho scoperto l'idea ed era una collaborazione che ho fatto con tiffany in cui loro dovevano lanciare questo bracciale nuovo che si chiama lock mi avevano dato come brief diciamo il fatto che doveva esserci un claim breve il claim doveva parlare d'amore e si doveva anche vedere bracciale non facile perché la prima parte tu dici amore perché ti devo inserire una parola che devo mettere il prodotto e fare anche un claim il tutto in un visual cioè che non ha il prodotto certo e il claim ma il prodotto dentro claim e allora lì ho scoperto scrivendole in mille modi che mettendo una sotto l'altra le parole lock your love io potevo sostituire le o col bracciale incatenarli avevo il nome del bracciale lock avevo anche la parola love fatto tutto pronto fatto e lì ho detto scoperta figata perché solitamente non vai per tentativi ma sei uno più che ragiona magari ma dipende perché io magari cerco tante reference di frasi in giro veramente ovunque però nel momento in cui cerchi non viene l'idea l'idea magari ti viene quando sei stanco a letto le due di notte e ti svegli e te le scrivi ti illumini e dici io però lo scrivo sul telefono nelle note oppure faccio una foto alle storie di instagram col dito col pennarellino me la faccio ti viene quel momento lì io però faccio tanta ricerca il problema è che la ricerca poi ti porta un po' a scopiazzare e lì sono problemi comunque di come posso dire reputazione perché come dice Guè comandamento numero uno non copiare lo stile da altri e poi anche problemi legali quindi lì c'è un problema però il processo è un processo veramente di continua ricerca 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 e poi a un certo punto è come se la torta fosse cotta e pronta e la tiri fuori dal forno e ti viene sai quante note hai nel telefono? ma io poi dopo le cancello però ne ho tante ne ho tante non lo so ne ho tante parlando prima una cosa interessante che hai detto è per esempio la musica la cosa che ti interessava erano i produttori il lato architettura appunto che sei quasi della struttura che sono tre mezzi molto diversi perché uno è il suono uno è l'immagine uno è la parola direi che è assodato il fatto che sia il tuo mezzo le altre due pensi ci sarà mai un modo in cui le esplorerai ti interesserebbe esplorarle o sei molto legato alla parola? allora io ho due amici che sono due personaggi top nel mondo della musica e uno è Big Fish il produttore e uno è Giacomo Aiolini che è il più grande discografico italiano che ha sostanzialmente inventato la dance sono molto più grandi di me però io li frequento come amici fraterni la musica per me resta una cosa inapprocciabile perché non ho nessun talento musicale zero cioè a me piace confrontarmi con loro perché per me non sapendo come viene fatta non avendo alcun talento resta qualcosa di ignoto di magia che loro mi svelano mi fanno sentire i pezzi mi portano in studio sento le cose e ha quell'aura quell'allure tale per cui per me è magica e non voglio rovinare questa cosa io non sono in grado in alcun modo di fare musica sono un grande stimatore della musica e l'architettura non lo so io l'esame di stato non l'ho mai fatto quindi ufficialmente non sei un architetto ufficialmente no non potrei praticare però è una cosa che mi piace con cui mi sono formato ti posso dire secondo il mio gusto se un edificio è fatto bene è fatto male eccetera non lo so magari in futuro perché tanto in Italia i giovani architetti hanno 50 anni quindi ho ancora un po' di tempo e riguarda invece prima hai citato Damien Hirst il fatto che molti critici molti insomma dei critici non lo ritengono effettivamente un artista il tuo ingresso nel mondo dell'arte è ufficiale perché nel momento in cui ti viene dedicato una mostra ufficialmente sei un artista come è stato ricevuto diciamo il tuo ingresso ma guarda secondo me la maggior parte dei galleristi non mi considerano un artista tutt'ora tutt'ora certo considera che io i miei primi quadri li ho venduti fuori dall'Italia tramite Instagram un signore un banchiere di Hong Kong ma proprio all'inizio mi aveva preso tre quadri prima ne aveva presi due poi mi fa no voglio anche questo non c'è due senza tre ha dei prezzi comunque da arte da enterprise ma da arte e poi la prima persona che mi ha dato fiducia proprio nel mondo dell'arte è stata Lara Rosenbaum di una galleria americana che si chiama Rosenbaum Contemporary che in tempi non sospetti mi chiese di inviarle una ventina di quadri per fare la fiera di Palm Beach io venti quadri ovviamente non li avevo non avevo idea di come li potevo fare c'erano molti sacchetti da recuperare moltissimi sacchetti tutti diversi cioè capisci che c'è un problema di base importante però facendo scouting scouting un po' di giri mobilitando amici conoscenti eccetera sono riuscito e oggettivamente lei mi ha portato ad una fiera dove c'erano artisti importanti ma cioè c'erano i vuoro poi c'erano i miei quadri per la prima volta su una parete e li ha venduti li ha venduti nel mercato americano tanto che poi alcuni dei miei clienti che li hanno presi adesso mi contattano perché hanno magari amici nello stato x y che vorrebbero prendere direttamente da me è ok però in Italia poi dopo queste cose per un annetto non si è fatto vivo nessuno finché non è arrivato questo gallerista di Milano a cui sono molto riconoscente che si chiama Glauco Cavaciuti che è venuto nello studio che avevo a Lodi in casa di mia nonna casa disabitata adesso non ce l'ho più che era sostanzialmente fai un appartamento senza mobili pieno di sacchetti di scatole con questi quadri appesi lui è venuto a trovarmi da Milano e me ne ha comprati subito tre e mi ha detto facciamo una mostra come ti sei sentito in quel momento mi ha detto secondo me sta bleffando anche perché poi per non so qualche settimana non si è più fatto sentire finché mi ha detto allora sono pronti come sono pronti quell'anno hanno fatto le vacanze di Natale li ho preparati ne ho preparati una sessantina abbiamo fatto la mostra in via Vincenzo Monti nella sua galleria e li ha venduti tutti e quindi sono entrato nelle case anche di collezionisti importanti e adesso ci sono anche tante altre gallerie che li chiedono sono tornato recentemente da Dubai dove ho fatto una mostra a Dubai dove proprio lì ho avuto la conferma che questi quadri sono capiti da tutti perché veramente mi sono ritrovato all'inaugurazione con gente che proveniva da ogni parte del mondo di ogni cultura di ogni religione di ogni costume con qualsiasi tipo di outfit e tutti capivano il senso del quadro e il suo messaggio perché secondo te? ma secondo me c'è il tema della semplicità della scrittura della sintesi e comunque quelli erano fatti sui sacchetti dei brand e questi brand sono conosciuti da tutti sono conosciuti dai ricchi dai poveri sono conosciuti in occidente in oriente e rappresentano questi sogni materiali nell'epoca del consumismo e questi sogni alla fine sono globalizzati ormai quasi tutto il mondo ha gli stessi sogni purtroppo per fortuna un tempo c'erano i personaggi famosi di Andy Warhol oggi i personaggi famosi sono completamente accessibili tramite tutti i loro profili e adesso ci sono queste cose assolutamente materialiste che hanno un loro alluro e niente però secondo me tantissimi tantissimi galleristi considerano i miei quadri per quello che sono immondizia con sopra una scritta ti interessa ti interessa avere questo riconoscimento da parte diciamo del mondo dell'arte o ti basta essere nelle case ti basta essere capito ma non lo so perché io non ho mai voluto entrare nel mondo dell'arte a me in realtà non interessa non ti tocca questo problema diciamo no a me interessa che magari un passante che vede una vetrina che ho fatto che si compra una giacca che ho disegnato per un brand o che va in galleria e vede un mio quadro fa la foto mi tagga e mi diceva figata ho visto la tua mostra cioè a me piace quello la cosa per assurdo più bella che è successa in un'altra mostra che ho fatto qua a Milano da Cavaciuti che lui l'ha dovuta chiudere dopo dieci giorni perché c'era un'affluenza troppo sostenuta sono venute diecimila persone anche mi scuso con tutti quelli che sono venuti che poi potrebbero essere dentro poco eccetera però non era un museo una galleria privata e per alcuni era la prima mostra che sono andati a vedere in vita loro sono andati a vedere la mia mostra per me questa è una cosa folle hai capito però mi fa piacere che anche più piccoli cioè quello che faccio piaccia io mi sento un pochino come quando io andavo a vedere gli artisti che mi piacevano da ragazzino e dicevo no che figata Motta andiamo a Parigi a vedere quella mostra lì con i nostri con le nostre mance 30 euro messe in tasca quella roba lì poi dopo il mondo dell'arte alcuni mi riconosco alcuni no amen però anche lì è un mondo secondo me che si sta evolvendo molto io ho visto come si è sviluppato come è cambiato totalmente il mondo della moda con l'avvento di testate come la vostra con l'avvento di personaggi influencer di ogni tipo artisti ragazzi cioè quelli che un tempo determinavano che cosa vendeva che cosa no che erano alcuni tipi di store piuttosto che alcuni tipi di riviste oggi quel potere non ce l'hanno più e secondo me come un domino questo tipo di processo accadrà a tutti i settori e il rapporto l'hai citato prima di collaborazioni tra brand e artisti come lo vedi oggi secondo te c'è un limite tra il prodotto e l'arte allora c'è ma c'è un discorso proprio di surplus di produzione di cose cioè la misura è colma un tempo quando c'era una o due collaborazioni top era tutto fighissimo adesso è diventato un modus operandi un po' abusato diciamo abusato cioè tutto è un evento allora niente è un evento non fa più notizia non fa più scalpore quando diventa la normalità perde la sua forza quindi a un certo punto bisognerà trovare altri tipi di sistemi di marketing c'è un dato di fatto che ogni azienda in ogni settore comunque ha la necessità di comunicare di dire che esiste e la necessità di vendere prodotti poi dopo il mondo è veloce e bisogna inventarsene una nuova ogni secondo non ogni anno però c'è da dire che comunque siamo in un momento di surplus di produzione di tutto anche di idee perché un tempo secondo me prima dei telefoni una persona prima di condividere una sua idea puoi essere un creativo con un cliente così comunque secondo me ci pensava faceva una grossa ricerca gli dava un valore anche quasi morale mentre oggi è pur che abbia un'idea basta che esca subito perché secondo te perché è tutto veloce perché per arrivare primi diciamo per arrivare primi per far vedere che se anche il mio competitor lo fa sono pronto a farlo anch'io ma questo vale per tutto per qualsiasi attività per qualsiasi lavoro secondo me è proprio un discorso di dire ci sono anch'io ma tutto generato solo e esclusivamente dal sistema di social perché è facile è accessibile cioè il contenuto diventa una fotina per stare al passo con la competizione per stare al passo perché si ha la paura che se tu ti fermi un attimo scompari perché salta fuori uno più bravo più veloce di te che prende il posto che hai e tu questa paura non ce l'hai come se ce l'ho ce l'hai ok io quando ho iniziato a fare le scritte mi dicono ma quello fa le scritte chi se ne frega adesso mi copiano tutti cioè sono copiato da artisti ma wherever proprio e tanti brand preferisco collaborare con loro piuttosto che con me poi dopo si senti il mio amico Giacomo Maiolini il discografico ti dice no ma tu devi guardare solo il tuo chi se ne frega degli altri io idealmente idealmente lo vorrei fare però dall'altro dall'altro come dire dall'altro lato della medaglia comunque dico cavolo un po' rosichi dentro ti da fastidio non è che rosico però mi incazzo ah certo mi incazzo cioè io sono una persona molto competitiva e riguardo al discorso delle idee hai detto che uno degli insegnamenti più belli che ti è stato dato è il fatto che ogni idea può essere una buona idea se eseguita in maniera corretta c'è un'idea che invece secondo te poi si è rivelata sbagliata per te e quali sono invece le idee a cui stai lavorando che ti piacerebbe provare a buttare fuori allora secondo me non posso dire se c'è stata un'idea sbagliata ora perché è il tempo che decide è il tempo cioè per le idee creative artistiche eccetera alla fine il giudice è il tempo quindi a uno può piacere una cosa che faccio oggi può non piacere eccetera però se alla lunga lascia un segno allora è stata una buona idea se no no quindi nell'immediato non lo posso dire idee su cui sto lavorando ma te lo dicevo non lo so io tutti i giorni provo ad esplorare nuove idee eccetera però manca quella epifania che ti fa dire cavolo questo è proprio il prossimo next chapter su cui lavorare poi secondo me c'è anche un tema finito questo mondo di instagram perché prima o poi si esaurirà si aprirà una volta che cambierà proprio l'hardware il telefonino le modalità con cui funzionerà con cui noi fruiremo dell'immagine dello schermo con occhiale un occhiale metaverse piuttosto che realtà aumentata non lo so però quando ci sarà questa rivoluzione secondo me darà nuova linfa al mondo dell'idea perché adesso noi da quando sono stati inventati i social e l'iphone diciamo in salse diverse comunque abbiamo fruito sul telefono di foto e video in modalità differenti in 2d fino ad oggi secondo me vivremo una rivoluzione dell'hardware che sarà tanto forte tale quale è stata quella di internet sul telefono perché anche i più grandi filosofi di oggi dicono l'invenzione dello smartphone nei social media è stata come portata pari all'invenzione della stampa di Gutenberg perché un tempo i libri erano detenuti solo dai nobili diciamo dalla chiesa nelle biblioteche tu poi dopo puoi stampare e quindi rendi disponibile a tutti la conoscenza lo stesso accade con le nostre vite con i telefonini secondo me ci sarà un nuovo step che darà nuova linfa però non posso immaginare quale possa essere noi aspettiamo e non lo so speriamo aspettiamo e ti ringrazio molto grazie mille per questa bellissima chiacchierata e ringrazio voi per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata di Aupan Podcast per la prossima puntata per la prossima puntata